ciao a tutti e benvenuti in questo unissimo video sono babbaluciful e oggi riproverò a giocare a dadish gioco che avevo già provato l'altra volta che mi ero arreso chi ha perso il video lo trova qui sotto in descrizione quindi iniziamo aspetta ok bene adesso dovrete sentire l'audio del gioco e adesso devo rifare tutto il livello da capo tutto il livello che ho che non ho finito da capo quindi taglierò questa parte ok bene siamo ritornati al punto che eravamo arrivati le scorse volte voi non vedrete di tutto ciò che ho fatto finora 2 minuti e 40 di tenta e ritenta in quella parte quindi bene andiamo allora prendiamo prima la stella che qui è la cosa importante oddio sta arrivando la lagge la mia peggior nemica la lagge scusate ma non so parlare sono scepe spero che nel video non ci sarà il così tanto lag ok bene andiamo adesso non c'è l'occhio non c'è l'occhio di tanta lagge con le prima no 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 Ok bene Tu scemo E' letteramente scemo Dai bel gioco Ma se ti asmazzola Ok E' un po' Adesso Così Pubblicità smettila Pubblicità smettila Pubblicità smettila A menù Pubblicità smettila Pubblicità smettilo io vi diseguro questa parte stupide fiamme lo spacco seriamente il computer è un bel gioco, tutto bello, il pixel up, però non lo so è troppo difficile questo livello secondo me la prima parte del livello lo compro nella stella le leggende narrano che finirò questo livello le persone che stanno guardando questo video in sé come lo oh ok pensate che sia divertente questa cosa vero? non lo è affatto pensate che sia divertente dato a casa vostra è acido ben urdito perché voglio vedere fabili, fettili, quindi la famiglia se ne va si monti monti poi questo registrando in realtà ah vale piccirella mia quanto ti sei dato da fare per mettere in piedi la tua attività eppure c'era sempre qualcosa che non funzionava fino a quando non hai scoperto sum up e ora il tuo business cresce i tuoi clienti sono felici e le cose girano per il verso giusto dai un'occhiata tu stesso così hai più tempo e denaro da spendere in quello che più ti piace ah ah adesso si che si ragiona sum up si che è possibile è perché prig만 riportare vittorale divino vittorale vittorale nulla vittorale 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 che usate vittorale vittorale E' bene. Stambul per. è un ruino così che riuscire ad arrivare al punto di altro riuscivo a vedere la spiaggia sono molto bello però per favore non potrei rendere questo gioco un pochino più semplice soprattutto a questo livello? o forse io che sono un scemo forse è Thomas che abbia sublimpato questo livello un po' troppo a sto Sì, sì. voi lo avete visto lieto di tutto ciò che ho fatto fino ad adesso perchè il babaccio flu del futuro ha tagliato quindi anche questo video è finito e noi ci vediamo in un prossimo video però non dimenticate di dare una zappuata sul mi piace e di iscrivervi quindi noi ci vediamo in un prossimo video